Partirà dalla Campania l'iniziativa intitolata Porti Aperte in Campagna, il primo tour italiano alla scoperta delle aziende di produzione biologica e biodinamica più all'avanguardia del paese. L'idea di Ecor Natura Seal, più grande gruppo italiano per la produzione biologica e biodinamica, nasce con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini e ai consumatori il mondo bio inteso come stile alimentare ma anche come stile di vita direttamente sul campo, dalla voce e dalle esperienze dei produttori. La prima tappa del viaggio italiano alla scoperta del bio sarà domenica a partire dalle 10.30 a Santa Maria Capoavetere, quella che una volta era la feconda Campania Felix, l'antica capua dell'impero romano e che oggi è una terra spesso marchiata come terra dei fuochi ma che invece ha numerose realtà produttive di eccellenza nel settore dell'agricoltura. A partire dall'azienda Amico Bio che sarà la prima delle quattro aziende italiane eccellenti ad ospitare il Biotour di Econatura Si. Ai nostri microfoni il fondatore di Amico Bio Enrico Amico, ascoltiamolo. Noi vogliamo fungere un po' da modello volendo dimostrare che è possibile anche in questi territori poter fare un'agricoltura di qualità ed un'agricoltura rispettosa dell'ambiente. E quella di Santa Maria Capoavetere sarà l'unica tappa meridionale del Biotour che prima dell'estate toccherà Reggio Emilia il 15 maggio, Bereguardo nel Pavese il 29 maggio e si chiuderà il 5 giugno a Cortellazzo a due passi da Jesolo per poi riprendere certamente in autunno visto il grande riscontro di adesioni online che già sta raccogliendo. L'appuntamento completamente gratuito con prenotazione online obbligatoria all'indirizzo web www.biopartecipa.it è fissato per le ore 10.30 di domenica all'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capoavetere dove la giornata all'insegna del bio inizierà con uno spettacolo teatrale della compagnia modenese Coené Teatro Sostenibile che proporrà un'inedita corale sui temi della filiera della produzione biologica. Poi la mattinata proseguirà alle 12 all'azienda Amico Bio presso il Bio Resort La Colombaglia di Capua. Laboratori didattici per bambini e workshop per gli adulti su coltivazione biodinamica, alimentazione biologica e salute animeranno la giornata bio fino alle 17 con un intervallo per il pranzo al sacco e le degustazioni di prodotti biologici.